Allora, se mi vedete così, non sto, ancora non ho ancora giocato una vera e propria partita perché il controller non regge Se tutto va bene dovrebbe arrivare niente domenica Però quando vedete questo video, io almeno avrò studiato un pochino Sto ancora studiando un pochino le cose che ci sono Però ho imparato alcune cose, vedendo video, vedendo qualche live e cose così, appuntandomi qualche cosa Allora, innanzitutto, su che cosa si inizia con cosa si inizia cosa? Allora, per quanto riguarda alcuni propri ruoli, per esempio mid, non ho ancora visto niente di che Perché la maggior parte di persone che seguo gioca carry e solo, e giungla Però ho imparato per esempio, ho visto come funziona il route, cioè la strada che si fa all'inizio della partita per i vari ruoli Questo lo spiegherò velocemente anche perché questo è una cosa che potrebbe cambiare in praticamente poco Perché stiamo parlando che è appena iniziata, probabilmente è papace che la prossima patch aggiustano varie cose Perché per esempio ci sono vari difetti del tipo che il buff viola nella mappa conquest dà meno esperienze di quanto dovrebbe E lo scorpione per esempio dà vari strani valori che non dovrebbe Quindi, alla fine, vabbè Insomma, ho imparato, diciamo, i vari strumenti ideali per solo, però anche per, possiamo definire ormai per quasi tutte le classi Per tutte le classi che servono Allora, innanzitutto, dei vari strumenti iniziali in più importanti sono, almeno di quello che ho visto Warrior Dex, il Minecraft Scepter che è praticamente diventato una cosa potentissima, che è diventata praticamente una mania potentissima E il Bluestone Pentant, per quanto riguarda solo lane Per solo lane si intende anche Warrior, solo una cosa però Bluestone Pentant è molto basato su personaggi I nomi e molti, solo a cui questi determinati personaggi possono fare, usare quel gioco, quel coso Allora, King Arthur, sebbene abbia detto che era molto utile su King Arthur A quanto pare si riesce a utilizzare la Warrior Dex, ma questa è una faccenda Un altro personaggio, e questi vi consiglio di segnarveli, perché Che possono usare bene i Bluestone sono Chuchulein quando si può essere un po' più aggressivi Wukong, che è molto utile su Wukong Tyr, pochi altro Basta Da quello che ho capito questi pochi personaggi, perché sono molto più utili Per quanto riguarda Warrior Dex, è praticamente quello che direi di farvi quando non sapete Se avete paura di rischiare, perché le statistiche che ha e l'effetto che ha È molto potente Specialmente la Flat Damage Detection Early Game in solo Vi aiuta parecchio E anche il potenziamento che si utilizza sempre Perché il Sanderi praticamente vi dà un utility in late game assurdo Quindi Stiamo parlando di un bel po' di danni in late game e cose così È anche ottima protezione E il potenziamento della Sanderi vi ricordo è semplicemente un potenziamento normale che avreva prima Solo che però stavolta ci vuole meno tempo per farlo Quindi ha solo un cooldown di 7 secondi e ruba salute in percentuale Mentre per quanto riguarda il Mannequin Scepter Che è praticamente diventato il cancro di tutti È per auto attacker, sì È stato decisamente detto per auto attacker Eh, viene usato praticamente da Bellona Bellona, Chuchu Lane, Hitler Shang e altri cosi così Diciamo che se il Warrior on Axe è molto basato su Può essere usato praticamente un po' su tutti Diciamo, perché è quello più, diciamo, safe da usare Il Mannequin Scepter è praticamente usato da tutti quelli che sono auto attacker, ecco Quindi potrebbe essere utile su qualsiasi personaggio Anche su Carrie, per esempio Ho visto anche su Carrie Tentershield, questo qua che era l'anti-healing Che abbiamo più volte un po' incavolato Dicendo che è un po' eccessivo Non è stato scelto più di tanto Perché, diciamo che Non si vuole avere una riduzione del healing Cioè è inutile avere Si preferisce potenziarsi all'inizio Che avere indietratamente una riduzione di cura Per ridurre l'avversario Perché, infine, il healing diventa un problema Quando si parla tra mid-late game, diciamo Quindi stiamo parlando di quando la partita è già partita È già ribbiata Quindi diciamo che Sarebbe ideale Ti fare l'anti-healing Quanto ti serve più avanti Se non stiamo proprio parlando di personaggi specifici Il death tool, invece, è una cosa che Avevo diceva Magari si diceva È molto utile su personaggi auto-attacca e così Ma in realtà non dà più di tanto Vi dà un po' di mano e cose così Però non è stato usato Non è utile Alla fin fine Il potenziamento è praticamente identico C'è solo un difetto E il tempera Un difetto che Non ho capito se è fatto apposta Cosa così Però c'è a volte non partono proprio gli stack Penso sia così E finché probabilmente non ci vorrà un'altra patch Perché per il momento La prima patch della stagione È difficile Trovare un vero e proprio assetto Del gameplay E cose così Diciamo che rimane un po' così Rimane, per il momento, ci si Diciamo, stiamo iniziando a Imparando a galeggiare al momento Quindi il death tool non è il problema ideale Per i carry, più che altro Di consiglio Gildenarro, potenziati in Ornitarro E l'Hunter Cowl Cioè il Ah, che non c'è, è vero, non c'è Cioè il potenzialmente Il potenzialmente Il mantellino La mantellina Sono entrambi utilissimi Solo che la Non so perché ci sia la Gildenarro qui Per Cabraca Ma vabbè Diciamo che qui stiamo parlando Di utility molti Allora, innanzitutto C'è da spiegare un paio di cose Dico last hit Io ho detto Tipo CS Non serve per forza colpire Con un attacco base Si possono uccidere i minio Anche con le abilità Ovviamente E la cosa interessante È che Ci possono essere più di un Singolo marchio All'interno della mappa E quindi Diciamo che Se Voi aspettate con calma Che vi si 10 secondi O quasi così Che si Marchi Non più anniversari Vi permette di avere 20-30 bonus gold Il problema è che Il potenziamento Non è così utile Perché è un singolo potenziamento Per 8 secondi Che Diciamo che In late game Non è Neanche così buona La Diamond Arrow Perché si stacca 3 volte Però diciamo che È relativamente poco Mentre Lord Night Arrow È un assoluto È molto utile In late game Cioè Verso fine partita Stiamo parlando Di gold Trasformato in potenza In velocità D'attacco e critico Magari non si deve Buildare per forza Sul critico Si può fare anche Semplicemente per avere Quella velocità D'attacco e quel critico Aggiuntivo Infatti ho visto Molte cose Ho visto che Siamo passati A A delle build Con doppio Lifesteal Per esempio Il classico inizio Che c'era nella season Vecchia Con Devour Più Asi Per Massimizzare Un po' di più Il lifesteal Che si ha Anche perché Ripeto Al di fuori Del combattimento Non recuperate Un cacchio Ovviamente Stiamo parlando Sempre di build Che si vanno Sull'auto Attacking La dominance La vedo usare Praticamente Su delle mie personaggi O su chi Pecca un po' Di danni All'inizio La penetration X L'ho L'ho Anche In late game Quindi stiamo parlando Di cose così Per quanto riguarda La giungla Invece Non è cambiato Molto Boomba Summer È Praticamente Potentissimo Perché Vi riduce tantissimo Il cooldown Quindi probabilmente Uno degli strumenti Migliori al momento Del gioco La spear Non ho mai visto Usare Più di tanto Ancora Ma come ho già detto Stiamo parlando Della prima settimana Quasi di patch Praticamente Quindi Stiamo parlando Di una cosa Che si deve ancora Assestare Però se devo scegliere Si sceglie Boomba Summer Perché Già in Durante i combattimenti O cose così Sui minio Dai due attacchi Base Ricarichi Praticamente Un botto La cosa Specialmente Su ferrier O cose così Ricarichi Da tanti Velocemente Le abilità Eye of the jungle Diciamo che Questo strumento Va utilizzato Su personaggi Che sono Autoattaccheri In giungla Perché Dici Non va bene La bombas mask La bombas dagger Il bombas dagger Sarebbe utile Però Su personaggi Autoattacca Si preferisce Avere la velocità Una velocità D'attacco aggiuntiva E fare più danni Contro i mossi Bombas armor Si Il bombas Te lo permette Di fare Però Qui dice Che Soltanto I posti attacchi Base Fanno danni puri Ma Le vostre abilità Fanno E fanno Totto danni Mentre L'eye of the jungle Permette di fare Danni a prescindere Quindi Non c'è la differenza Tra attacchi base E cose così Quindi è migliore E l'ideale Sarebbe avere Il protector Of the jungle Che vi dia Sia power Che protection Se bisogna Scegliere un potenziamento Secondo me Il protector Of the jungle È molto utile L'unica cosa Che bisogna Quando siete Nella giungla Quindi Diciamo che Alla fine Si tratta Molte Sulle statistiche Il seal of the jungle Sembra ebbe utile Fino a un certo punto Però Vedere il ward Per 10 secondi In un momento D'emergenza Cosa si si Sui mosti Della giungla Sui jungle Mosti Della giungla Glossi E cose così Non è che sembra Così tanto Per quanto riguarda Questi qua Come il ward In sigil E altri strumenti Vari Per esempio Il ward in sigil Io lo direi Di prendere solo Quando si sono In situazioni strane Come per esempio Ci avete contro Ad esempio Se siete solo Avete contro Un guardian O viceversa Perché così Potete permettervi Di essere un po' Più tanky Però si preferisce Avere una a una Warrior's axe Oppure In base a quello Che state usando Un altro strumento Il vampire shroud È un altro Di quegli strumenti Che stranamente I guardian In solo Potrebbero anche usare Però stiamo parlando Di avere un po' Più di tankiness Di tank Di essere un po' Più tank E magari Con l'abilità Seconda Con l'abilità Di qualche potenzialmente Vi permette di potenziarvi Un pelo di più Durante il combattimento Ma in English Scepter Come ho già detto È potenziato È assurdamente potente Questo strumento È praticamente Il preferito di tutti Vi permette Di fare danni Con i vostri attacchi Base Come la Bluestone Pendant Però funziona Sugli attacchi base E la protezione Fisica Che vi dà E la Death Legend Reduction È utilissima In early game Il potenziamento E quanto il potenziamento Penso che utilizzino Comunque Allo stessa maniera Sempre il potenziamento Classico Ma forse Forse Ripeto Quando si tratta Di stare in giungla Il Manichin Hidden Blade Sarebbe il potenziamento Quello su Nel tempo Nel senso che Dopo 5 secondi Che non attacchi cose Ti potenzia Prossimo A danno Che gli fai Lo rende molto utile Per quanto riguarda Benevolence E animosity Ho visto una cosa interessante Ci sono alcuni giocatori Più bravi Nel senso Quelli professionistici Oppure anche Magari che stanno A livelli avanzati Di gioco È totalmente ignorare Il primo strumento Lo strumento iniziale È startare Magari in solo Con Stipare cose così E farsi molto più avanti Nella partita Alla fine Animosity Perché I danni che fate Aggiuntivamente Sono eccezionali Con tanta salute Che avrete Come solo Così Vi permette di Farsi che Facciate un sacco di danni Per quanto riguarda Il support Ovviamente Come pensavo Si tratta sempre Di avere O Sentinel Gift O la Warrior Flag O la War Flag Perché Come ho già detto Sono entrambe Molto utili Se uno siete Più Diciamo Normali O un altro Se volete essere Molto più Progressivi E quando riguarda Mid Purtroppo Non ho visto Molto Purtroppo Mid Però Da quello Che Penso Penso Che la Più usata A momento Sia la Conduit O la Sand of Time Con il potenziamento Del mana Che torna mana E il mana Che in base Ha la potenza La magica Per ogni 10% Del tuo mana Che avviabile Quindi Probabilmente È capace Che ci sarà Una build Basata molto Sul mana Però Non so Ancora dirvi Sto ancora Studiando cose Quindi ci sarà Magari Farò Un video Aggiornamento Di questa cosa Quindi Penso che Probabilmente Le cose Più utili Siano La Conduit Per mid Conduit Oppure Per personaggi Che magari Hanno bisogno Di cooldown Reduction La Sand of Time Per esempio Su un Aphrodite Mid Anche se vale La pena Giocare Non so se Ve lo vale Più bella Di giocarla Diciamo Che la Sand of Time È molto utile Magari Non il potenziamento Dell'Artener Timeline Che sembra Che è un po' Rotto Ma che funziona Solo 10 minuti Consiglio Magari Una Pendleton Per avere Più cooldown Reduction E un po' Più di potenza Mi pare Di aver parlato Di ogni singolo Strumento Al momento A parte Magari Dell'Hunter Cowl Ecco L'Hunter Cowl È quello là Che dicevo Che se siete con L'Aleato Vi potenzia La velocità D'attacco Se non siete Con L'Aleato Vi potenzia La velocità Di movimento Da quello Che ho visto Tutti utilizzano La prima Cioè La versione Quella potenziata Con la semplice Aura di velocità D'attacco Perché È la più safe Delle varie regioni Perché l'altra È un po' Troppo basato Sul fatto di avere Teamfight A vantaggio E quindi Diciamo che Anche se Diventa una cosa Così eccezionale In alcune situazioni È un po' troppo situazionale Proprio per questo motivo E adesso parliamo Velocemente Di quello che ho visto Allora Per quanto riguarda La route Della giungla Ecco Purtroppo Non posso farvi vedere La mappa Velocemente Però Segnatevi queste cose In Conquest Tutti i ruoli Ormai C'è un Diciamo Un piccolo Patter Di scelte Per muoversi Nella giungla Appena è partita La partita Per inizio La partita Per esempio Passiamo Dalla dual lane Fino all'absolu lane Dalla dual lane Allora innanzitutto Il support inizia Il purple buff Da solo Il carry Aiuta il mid A fare Il rosso Così Il rosso Prende Il mid Prende il rosso Il buff rosso E va in lane Nella sua lane Mid Mentre il carry Va a dare il colpo di grazia Al purple Il support Non deve Non deve uccidere il purple Ovviamente Parlando di Il support Non lo deve fare E quindi Il solo E il jungle Puliscono Lo speed Il giallo E uno O tutti e due I campi Dell'xp Cioè delle arpie E poi vanno a fare Il blue Questa cosa Mi permette di avere Un bel po' Di esperienza in più E soprattutto Con determinati strumenti Specialmente che ne so Con il mannequin scepter Alcuni Hanno la capacità Di arrivare Praticamente in lane Quasi a livello 3 Permettere di avere Un'aggressione iniziale Assurda Specialmente se Il vostro avversario Non l'ha fatta Lo stesso Il vostro stesso route E poi Il jungle Praticamente O va a farsi L'altro campo Della Dxp Che è avanzato Oppure Va a farsi Quello mid Cioè il mid Dxp E poi Va in lane Pulisce la lane Insieme al mid I donna in jungle Si pulisce altri Altri campi Così così Quindi Là è tutta questione Di Cosa fa Il jungle Diciamo che La cosa Questa era Solo l'inizio Ovviamente Quello che ho detto Solo l'inizio Quindi non so Ancora bene Le partite Come funzionano Mi piacerebbe giocarlo Ma come ho già detto Con quest primo Dovrei giocarlo Con un controller decente Con il fatto che Non vada in In server Non vada ogni volta In Come si dice In manutenzione In continuazione Ma Diciamo che Questo è quello Che ho visto Ovviamente Ognuno Può provare A fare diversi Cosi Però comunque Io questo Che ho visto E semplicemente Facendo Faccio Quello che Dico Che ho visto Praticamente Dico quello Che ho visto Niente Allora Fatemi sapere La vostra Se vi sono stati Utili Questi consigli E ci vediamo I prossimi video Quando riuscirò Magari a Finalmente Giocare Una partita Anche perché Stamattina Ho cancellato Praticamente Tutte le partite Avevo 3-4 partite Vecchie Che avevo Tenuto da parte Della season Vecchia Però alla fine Non l'ho più Caricate Quindi Fatemi sapere La vostra Ragazzi Se avete Problemi O consigli Sono qui Quindi Mi trovate anche Su discord Niente Ci vediamo Sostipire Ragazzi Vi ricordo Il caso Non è stato Sottolineare Vi ricordo Un gamepad Ma Non si può Cambiare Il mondo Ci vediamo Magari Al prossimo Aggiornamento Di un Di un video Che magari Ho capito Più cose Quindi vi spiegherò Meglio Alcuni dettagli Che magari Ho scoperto Di più Ok Bye bye